Buonasera a tutti, buonasera a tutte. Innanzitutto un grazie, un buonasera al professor Caracciolo. Siamo molto lieti di ospitare oggi qui questa terza lezione, anzi questa terza ora di storia che come sapete è un'iniziativa che abbiamo assunto e che ha avuto molto successo, addirittura più dell'atteso. Ci scusiamo per un po' di inconvenienti, ma alla fine entreranno tutti, ma non ci aspettavamo questa folla. L'ora di storia è un ciclo di incontri, di lezioni che ha avuto molto successo. E che risponde appieno alla filosofia del Maxi, al modo in cui stiamo cercando di relazionarci al nostro pubblico. È un po' nostra consuetudine affiancare alle nostre mostre e alla narrazione che attraverso le mostre offriamo al pubblico. Eventi, approfondimenti, workshop, l'abbiamo fatto per Bellissima, la mostra che ospitiamo in Galleria 5 sulla moda e l'abbiamo fatto su questa grande mostra di riferimento di questo ciclo di lezioni che è appunto la mostra architettura in uniforme, progettare e costruire per la seconda guerra mondiale. È una grande produzione che noi abbiamo condiviso con il Centre pour l'architecture di Parigi e il CCA di Montreal. È una mostra che durerà fino ai primi di maggio, che esplora cosa è successo all'architettura durante la seconda guerra mondiale e il modo in cui gli architetti sono stati coinvolti nel grande evento bellico della seconda guerra mondiale. Abbiamo oggi il grandissimo piacere di ascoltare Lucio Caracciolo che ci parlerà delle guerre globali, tema drammaticamente attuale e se posso dire drammaticamente attuale anche per, in un certo senso, l'uso simbolico della dimensione culturale, della dimensione del patrimonio culturale che oggi attraversa le grandi guerre globali. Proprio oggi abbiamo aderito a questa grande campagna che ha lanciato l'UNESCO Unite for Heritage e le vicende che costellano la quotidianità e l'informazione sulla distruzione dei grandi siti archeologici, l'attacco al Museo Bardo. Insomma, adesso non la voglio fare lunga, però, insomma, indubbiamente c'è una dimensione anche simbolica, molto importante, della guerra ai segni della civiltà e della storia. Io davvero non voglio dire altro. Ancora una volta ringraziare Lucio Caracciolo per essere qui con noi oggi e ascoltare insieme a voi la sua lezione sulle guerre contemporanee. Grazie, grazie Giovanna. Buonasera a tutti. Mi spiace per coloro che sono in posizioni, diciamo, non ideali. Vedremo di fare un auditorium più grande, vero Giovanna? Ecco. Il tema che mi è stato assegnato fa veramente tremare i polsi e quindi la cosa migliore quando si tratta di affrontare temi così importanti e così vasti è quello di restare alle carte, partire dalle carte, come facciamo noi normalmente all'IMES per delimitare i problemi. E allora, quando parliamo di guerre contemporanee, la prima cosa che dobbiamo cercare di capire è dove si combatte. Questa è una sommaria identificazione dei territori, dei paesi, dove sono in corso dei conflitti a varie intensità. Vedete in particolare in un colore rosso scuro l'Afghanistan, la Siria e l'Iraq e la Nigeria. Afghanistan, Siria, Iraq e Nigeria. E poi a decrescere una serie di paesi, tra cui anche la Russia, la Cina, l'India. Qui stiamo parlando in realtà, per quanto riguarda la Russia, essenzialmente del conflitto in Ucraina. Per quanto riguarda la Cina, essenzialmente di conflitti interni, in particolare con le minoranze musulmane uigure della regione nord-occidentale del Xinjiang. Per l'India ci sono i naxaliti, i maoisti e tutta un'altra serie di conflitti sempre interni. Un altro paese che non è stato qui considerato, ma che tecnicamente è in guerra, un paese così uno fra i tanti, è gli Stati Uniti d'America, che dal 2001 sono in guerra contro il terrorismo. George W. Bush ha promulgato a suo tempo, nel settembre 2001, un atto on the war on terror, che non è stato ancora revocato, anche se Obama non usa più la parola, ma la sostanza resta. Una caratteristica che emerge immediatamente è quanto queste guerre interessino in particolare il sud del mondo, interessino in particolare l'Africa e l'Asia meridionale e come invece, ringraziando il Dio, per ora almeno noi europei, nord-americani e in generale anche sud-americani siamo abbastanza al di fuori di questa mischia relativamente, perché poi noi ci interveniamo con degli interventi magari limitati, ma che certamente hanno dei costi economici, umani e culturali, di un certo rilievo. Un'altra caratteristica che salta agli occhi di questa carta è che comprende buona parte di quella che i musulmani chiamano la Dara al-Islam, cioè la terra dell'Islam, la casa dell'Islam, in particolare l'Africa, non solo quella settentrionale, ormai l'Islam è una religione panafricana, direi anche buona parte dell'Asia occidentale e meridionale, dalla penisola arabica fino all'Indonesia. E questo ci dice già qualche cosa di geopoliticamente molto importante. Noi abbiamo di fronte a noi una serie di conflitti, molti dei quali sono conflitti intramusulmani, cioè avvengono all'interno del mondo musulmano. E questa è una cosa, credo, importante da dire, perché molto spesso questi conflitti vengono rappresentati come dei conflitti fra il cosiddetto occidente e il cosiddetto mondo musulmano, mentre sono essenzialmente conflitti che avvengono appunto dentro il mondo musulmano, in cui le vittime e i carnefici sono al 99% musulmani. Quindi non c'è, come si racconta qualche volta, lo scontro di civiltà, le crociate, i cristiani, il saladino e quant'altro, ma ci sono dei conflitti, non solo lì, ma ci sono dei conflitti che interessano in modo specifico il mondo musulmano. Se guardiamo questo grafico, abbiamo anche un'idea di dove si concentri l'intensità di questi conflitti. Il rosa e il rosso scuro rappresentano la Siria e l'Iraq, cioè ormai due territori che non hanno più una barriera fra loro, perché il confine sirio-iracchè è un confine ormai teorico. I territori in cui si combatte una serie di conflitti e in cui le formazioni jihadiste più famose, ahimè, come lo Stato islamico, impazzano in questo momento e che hanno già provocato centinaia di migliaia di morti. Se voi comparate la somma di Siria e d'Iraq, o come si dice in gergo Sirac, con il resto dei conflitti, vi rendete conto della dimensione che la Mesopotamia, perché di questo si tratta essenzialmente, che la Mesopotamia ha in questa partita. E forse un aspetto che invece è meno evidente è che questi conflitti interessano in gran parte territori di traffico. Parlo di traffici informali, illegali, parlo di traffici di droga, di esseri umani, di armi. e questo quadro ci aiuta a capire anche una caratteristica di questi conflitti. E la caratteristica è che sono conflitti essenzialmente di trafficanti, cioè di gruppi, di organizzazioni, che magari adottano questa o quella bandiera del profeta, ma che essenzialmente campano di traffici. E un'altra cosa poco gradevole da vedere è che questi traffici evidentemente hanno un mercato che siamo noi. Siamo noi che compriamo poi il prodotto, che sia la droga, che sia l'opera d'arte. A proposito di quello che diceva prima Giovanna, un aspetto importante di questi conflitti, in particolare di quelli più importanti in Siria e Iraq, è che stiamo parlando di una zona a fortissima densità archeologica, dove sono collocate alcune delle più importanti meraviglie dell'arte antica, o forse erano collocate, ahimè, dalle quali aree partono una quantità di traffici che poi, generalmente attraverso la porta della Turchia, raggiungono i musei dell'Occidente. Qui lo escluderei, sia perché conosco chi fa il maxi, sia perché stiamo parlando di arte contemporanea, non mi stupirei di trovare qualche reperto commerciato dal califo al British Museum o al Metropolitan o altrove. Perché, ripeto, queste organizzazioni che noi vediamo unicamente sotto il profilo terroristico e religioso, in realtà usano il terrorismo e la religione in vari modi e per vari motivi, ma anche, se non soprattutto, per gestire questi traffici. E d'altronde nella storia delle organizzazioni terroristiche non è una novità, lo facevano anche guerriglieri di tutt'altro orientamento ideologico, marxisti in Sud America o quant'altro. Ma quello che è più disturbante per noi è renderci conto che queste organizzazioni profittano di noi, o meglio, noi profittiamo di loro, se preferite. C'è un commercio, c'è chi vende e c'è chi compra. Stiamo parlando, ripeto, di partite come quelle della droga, delle armi, dei traffici di esseri umani, ne parlerò più avanti, dei reperti archeologici e quant'altro, dalle zanne di elefante alle pietre preziose. Questo significa, molto concretamente, che se non ci fossimo noi non ci sarebbero nemmeno loro. Il mercato che noi garantiamo ai traffici che provengono da queste aree è un mercato assolutamente strategico, decisivo, ed è quello che permette, per restare a un caso specifico, quello dello Stato islamico, a questa organizzazione di finanziarsi. Non solo questo, ovviamente, ci sono altri flussi e altri cespiti, ma questo flusso e questo cespite è abbastanza fondamentale. E allora, per non divagare troppo e per vedere in questo teatro centrale delle guerre contemporanee che cosa succede, partiamo proprio da questo famigerato marchio, lo Stato islamico. Intanto una parola sulla parola. Pare che non si possa dire Stato islamico perché è politicamente scorretto. Io lo uso intanto per una questione di semplice metodo. Non si può analizzare un fenomeno se non partendo da come questo fenomeno rappresenta se stesso. Si può essere d'accordo o meno sul carattere più o meno islamico, più o meno statuale di questa organizzazione, ma il fatto che si chiami Stato islamico è qualche cosa di molto importante. È molto importante perché questo già appunto nel marchio differenzia questa organizzazione da altre organizzazioni ideologicamente affini, cioè dalla galassia cosiddetta jihadista, che non avevano una dimensione territoriale e una propensione territoriale così spiccata e al tempo stesso universalistica. Nelle sue varie vite precedenti, vite che cominciano con l'invasione americana dell'Iraq e con la resistenza irachena all'invasione americana, perché da qui nascono questi gruppi, in particolare lo Stato islamico, dicevo, in queste maschere precedentemente adottate c'erano dei predicati, lo Stato islamico della Mesopotamia, lo Stato islamico della Siria e del Levante, dell'Iraq e del Levante. Poi il 29 giugno dello scorso anno il signor al-Baghdadi, pubblicamente parlando in una moschea di Mosul, definì la sua organizzazione, lo Stato islamico, e se stesso il califo, con ciò affermando una vocazione universale della sua organizzazione e della sua persona. Il califo, nella storia islamica, rappresenta non un potere regionale, locale, nazionale, ma il potere politico-religioso centrale che, come sappiamo, formalmente è finito nel 1924, ma in realtà era finito da un bel pezzo, con l'ultimo sultano califo ottomano, e che da allora costituisce motivo di memoria o di nostalgia in una buona parte della Ummah, della comunità islamica mondiale. E quindi questo signore, questo Abu Bakr al-Baghdadi, come si chiama adesso, perché ha avuto anche lui vari nomi, ha voluto indicare in questo modo con questa autodefinizione le aspirazioni universalistiche che evidentemente al-Baghdadi certamente non è uno stupido, sa che non si realizzeranno mai, che lui non potrà diciamo regnare, non dico sul pianeta, ma nemmeno sull'intero mondo musulmano, ma indicano comunque una prospettiva e hanno un enorme potere di attrazione. una cosa è andare a combattere per un'organizzazione jihadista di una parte del mondo, un'altra cosa è andare a combattere per un'organizzazione che si reclama universale. E questo è uno dei fattori che spiega il successo del marchio, perché di questo si tratta, di una grande operazione di marchio come non si vedeva da molto tempo in ambito geopolitico. E questo è uno dei fattori che spiegano anche l'afflusso di migliaia di combattenti verso questo spazio e nelle aree con termini ad alzare la bandiera e naturalmente a partecipare ai traffici che ne derivano. Forse qualcuno avrà letto in un numero recente della nostra rivista una sorta di racconto che uno dei combattenti dello Stato Islamico fa della sua esperienza sul terreno e racconta di come è entrato in questa organizzazione e uno dei fattori che laicamente ammette di avere considerato nel partecipare a questa organizzazione avendo abbandonato un precedente organizzazione jihadista è che in questa organizzazione gli davano 600 dollari al mese e nell'altra 400. Insomma è gente che sa far di conto poi si profeta va bene ma stiamo parlando di esseri umani e non di marziani. E quindi l'aspetto economico credo che debba essere tenuto nel conto dovuto quando analizziamo queste guerre ma non come spesso si fa immaginando grandi conflitti per il petrolio o cose di questo genere che certamente ci sono diciamo a un secondo livello ma non sono certamente né la causa scatenante dell'invasione americana in Iraq né la causa scatenante delle resistenze attuali ma di un tutta una serie di fattori tra cui anche evidentemente la commercializzazione degli idrocarburi che partecipano alla sostenibilità dei poteri in questi territori che non sono ormai più degli stati. quasi tutti i conflitti di cui abbiamo parlato e che abbiamo cartografato avvengono in territori o completamente privi di statualità o in cui la statualità è una forma una forma quasi ininfluente e dove quindi per conseguenza le frontiere non esistono più o sono delle frontiere molto pallide qui diciamo abbiamo rappresentato lo spazio dello stato islamico a cavallo di Siria e d'Iraq come se non ci fosse l'abbiamo appena tratteggiata la frontiera la frontiera Sykes-Picot cioè la frontiera stabilita durante la prima guerra mondiale dai negoziatori francesi e britannici e poi sancita dopo la prima guerra mondiale che divideva questo territorio tra una zona di influenza essenzialmente francese e una britannica Siria e Libano da una parte Iraq dall'altra e che è stata nota bene una delle bandiere che lo stato islamico ha sventolato noi siamo stati siamo gli eversori dei confini di Sykes-Picot dei colonialisti crociati europei che vennero qui a spartirsi la nostra terra forse l'unica barriera che può avere un senso in questo momento è quella che vedete disegnata in rosso e che stanno costruendo i sauditi una barriera un muro tra virgolette o anche senza che assomiglia abbastanza non so se vi è capitato di passarci alla barriera tra Messico e Stati Uniti filo spinato vari livelli di muri e di altri sistemi di segnalazione elettronica e così via perché uno dei paradossi di questi conflitti e di questo conflitto in particolare è che alcune organizzazioni jihadiste tra cui anche quella dello Stato Islamico che inizialmente erano state foraggiate in ogni modo e armate in ogni modo dalle potenze del Golfo in particolare dall'Arabia Saudita perché pensavano di utilizzarle in chiave anti-Iran essendo l'Iran dal punto di vista geopolitico e religioso la Persia e lo sciismo il diciamo il nemico numero uno del regime saudita e poi come spesso succede il padrone perde il controllo del servo oppure il servo si immagina padrone e quelli che dovevano essere degli strumenti docili scagliati contro il primo alleato dell'Iran nella regione cioè il regime di Al-Assad si sono rivelate delle teste pensanti che vogliono ottenere i propri obiettivi e che considerano il regime saudita pur ideologicamente affine stiamo parlando di ambienti sunniti wahhabiti cioè di un'interpretazione puristica per capirci dell'Islam sono di fatto in contrapposizione frontale dal punto di vista dello stato islamico l'Arabia Saudita è un paese corrotto in cui i governanti sono al soldo dell'Occidente la realtà semmai è l'inverso mentre per l'Arabia Saudita lo stato islamico ovviamente è l'Arabia Saudita e loro sono un'organizzazione prima strumentale adesso forse più fastidiosa che strumentale ancora sul luogo come voi vedete da questa rappresentazione sommaria stiamo parlando di un fenomeno dinamico quindi immaginare di cartografare una volta per tutte lo stato islamico è impossibile ma insomma grosso modo siamo intorno a questi territori vedete che abbiamo distinto delle aree in lilla e delle aree in un viola più più corposo e notate in particolare che queste aree seguono in particolare quelle più marcate seguono il corso del Tigre e delle Eufrate cioè siamo in piena Mesopotamia e questo ci ricorda un'altra o forse la prima delle poste in gioco ed è l'acqua il controllo degli acquiferi e quindi strategicamente il controllo delle dighe una delle più grandi battaglie che c'è stata in questi mesi è stata quella per il controllo della diga di Mosul che è una diga strategica e che evidentemente sta qui più o meno evidentemente significa poter controllare il regime delle acque in un'area che di acque ha ovviamente grande bisogno specialmente perché negli ultimi anni in particolare tra il 2007 il 2010 il 2011 questi territori sono stati colpiti da una gravissima siccità questo è un aspetto climatico che spesso viene sottovalutato ma una delle origini della rivolta in Siria contro il regime di Al-Assad è stata propria è stata proprio la siccità e cioè il fatto che nel giro di un paio d'anni i contadini siriani che già hanno un diciamo un contenzioso storico abbastanza corposo con la borghesia urbana commerciale di Damasco di Aleppo si sono trovati praticamente con le gomme sgonfie perché i loro territori erano diventati quasi incoltivabili completamente aridi e quindi su questo germe di carattere ambientale e poi economico è stato più facile attizzare il fuoco della rivolta contro il regime ma dicevo il controllo delle acque è assolutamente strategico e si combatte molto spesso per questo per le dighe per gli acquiferi o nelle aree desertiche in particolare per i pozzi molto più che per i pozzi petroliferi in ogni caso anche se si combatte pure per quelli e consideriamo poi anche che in Iraq la zona meridionale dell'Iraq che era una zona fondamentalmente paludosa è diventata una zona anche questa sempre meno ricca di acque anzi spesso arida e questo ha comportato ancora una serie di sconvolgimenti migrazioni di popolazioni rivolte sedazione armata delle rivolte e così via come si configura oggi questa organizzazione che controlla come vedete una parte variabile di territorio a cavallo della ex frontiera siro-irachena non do per scontate alcune cose che sono abbastanza note e mi concentro sugli aspetti meno visibili oppure meno visti perché spesso sono visibili ma si preferisce non vederli come dicevo questa organizzazione nasce come organizzazione di resistenza all'occupazione americana dell'Iraq quindi dopo il 2003 e se voi andate a vedere la elite militare di comando dello stato islamico vi trovate ciò che resta della crema delle forze armate di Saddam Hussein perché una delle mosse più lungimiranti degli americani nel 2003 fu quella di sciogliere l'esercito di Saddam quindi di mandare in libertà centinaia di migliaia di armati anche piuttosto diciamo incavolati i quali poi in buona parte sono affluiti nelle file della resistenza perché prima di tutto avevano il privilegio di essere comunque una parte rilevante e coccolata del regime e poi perché si sono trovati a confrontarsi con un governo a Baghdad che difendeva interessi opposti ai loro cioè difendeva gli interessi in particolare degli arabi sciiti cioè della parte diciamo dell'Iraq più verso il centro sud per capirci maggioritaria da un punto di vista demografico ma che era stata nella storia dell'Iraq fondamentalmente compressa e oppressa dalla minoranza sunnita un po' quello che è successo e sta succedendo in Siria dove una comunità relativamente piccola quella lauita che vale forse l'11-12% del popolo siriano o di ciò che ne resta ha tenuto e ora tiene in modo molto parziale le redini del potere per decenni questa manovalanza che poi non era solo manovalanza parliamo anche di alti ufficiali generali colonnelli ha preso varie vie alcuni se ne sono proprio andati ma altri invece sono rimasti e hanno prima cercato di trovare un modus vivendi sia con gli americani almeno alcuni e poi anche con il governo di Baghdad e poi molti di loro sono passati appunto alla lotta armata questo lo dico perché noi non capiamo come un'organizzazione che a noi giustamente appare particolarmente efferata possa tutto sommato controllare un territorio parliamo di città Mosul originariamente erano 2-3 milioni di abitanti adesso forse sono parecchi di meno ma insomma Raqqa erano mezzo milione adesso saranno un po' di meno ma insomma stiamo parlando di non solamente campagne o deserto stiamo parlando di città cittadine che sono amministrate la parola è questa naturalmente a suo modo da questa organizzazione dallo Stato Islamico oppure da altri gruppi jihadisti a Nusra in Siria e così via lo dico perché qui viene l'importanza del termine Stato questa organizzazione più di altre ma anche altre lo fanno dispone di una sua capacità di welfare cioè offre dei servizi dove non c'è più lo Stato o dove lo Stato è in mano a una piccola cricca che difende i propri interessi cioè praticamente in tutta la regione per essere chiari ma qui in modo più palese più specifico l'alternativa che si trovano di fronte i tribali per esempio dell'Iraq è quella tra un governo di Baghdad che considerano nemico e che il governo di Baghdad vede infatti loro come nemici che diciamo come grado di efferatezza probabilmente è in grado di competere con lo Stato islamico e dall'altra parte appunto lo Stato islamico che si dà un tono religioso che quello di Baghdad non si vuole dare non si dà ma che fondamentalmente in questa fase è in grado di offrire alle popolazioni sunnite dell'Iraq almeno alcune di esse alcune tribù quei servizi parlo di acqua parlo di scuole parlo di ospedali parlo di tribunali cioè corti islamiche parlo di polizia che per esempio le truppe cosiddette regolari di Baghdad che in realtà sono milizie sciite con un vestito nazionale più le milizie sciite tukur più perché poi questi sono quelli che combattono sul terreno più i Pasdaran cioè delle forze speciali iraniane persiane più qualche kurdo dico qualche perché i kurdi una volta respinta la prima ondata che addirittura mirava verso il nord kurdo la prima ondata di attacchi dello stato islamico che addirittura puntava su Erbil una volta respinti dal territorio propriamente kurdo i kurdi hanno detto vabbè questi non sono affari nostri o comunque anche se erano affari loro gli altri gli hanno spiegato che grazie avete combattuto contro lo stato islamico ma adesso lasciateci combattere noi perché qui stiamo parlando di territori nostri quindi questo strano misto di kurdi arabi persiani sciiti e quanti altri ma non molti altri non riesce in realtà a riconquistare molti dei territori che sono stati conquistati o delle località che sono state conquistate dallo stato islamico ma non tanto e non solo perché lo stato islamico sono dei combattenti abbastanza addestrati e particolarmente feroci ma anche perché è inimmaginabile che il governo di Baghdad possa controllare che so Tikrit o un'altra città tipicamente radicata nel mondo tribale sunnita e quindi a suo tempo saddamiana semplicemente come si può governare una propria città stiamo parlando evidentemente di comunità che pur appartenendo formalmente all'Iraq sono esclusive dove c'è uno non ci può stare l'altro meglio l'altro può stare solo sotto e quindi uno dei problemi che le forze dell'Iraq e le forze diciamo che più o meno si dichiarano contrari allo Stato Islamico incontrano e che devono sostanzialmente radare al suolo delle città per poter in qualche modo affermare di averle conquistate con la buona probabilità che una volta che le hanno rase al suolo poi magari qualcuno tornerà e riaccenderà la guerriglia ma questo aspetto ecco questo aspetto diciamo così insurrezionale dello Stato Islamico non lo vediamo abbastanza ci concentriamo come è anche giusto che sia sugli aspetti del terrorismo della violenza efferata ragazzi stiamo parlando di efferatezze di crudeltà che avvengono in aree dove diciamo noi siamo colpiti dalle decapitazioni ma insomma se voi andate in Arabia Saudita a Riyadh tutti i venerdì a decine si tagliano le teste sulla pubblica piazza come un grande spettacolo teatrale quindi non è che da una parte ci sono delle persone particolarmente civilizzate e dall'altra ci sono dei mostri stiamo parlando di una violenza che a noi giustamente perché noi siamo esterni a questo mondo entro certi limiti consideriamo inaccettabile ed efferata ma che purtroppo non è così straordinaria per quelle parti di mondo lo dico perché ancora una volta questo ci spiega la persistenza di questi fenomeni che possono avere magari anche sigle mutevoli ma che poi hanno un loro radicamento territoriale hanno una loro capacità di controllo del territorio e poi naturalmente spesso cadono non perché siamo stati capaci noi occidentali di sconfiggerli ma perché un altro gruppo in questo ambiente diciamo segnato dalle rivalità etnico tribal settarie riesce a prevalere su di loro e quindi è un circuito ecco un aspetto importante delle guerre contemporanee il loro aspetto ciclico come abbiamo visto forse anche nella carta precedente questi territori non sono territori dove le guerre esistono da pochi anni sono territori che sono investiti da conflitti da decenni in casi secoli e quindi questo ci spiega come questi fenomeni abbiano un loro andamento ciclico delle punte che sono visibili e che però per il noi diventano visibili non nel momento in cui muoiono 200.000 siriani ma nel momento in cui vediamo sui nostri teleschermi o sul web le due teste degli americani tagliate perché 200.000 siriani non valgono due americani e naturalmente ci sono delle fasi invece in cui questi conflitti appaiono come sedati per esempio per parlare di qualche cosa di più vicino a noi credo che sarebbe abbastanza irragionevole pensare che i Balcani siano stati in qualche modo risolti è evidente che almeno in una parte di quella area che fu investita dalla mattanza post-yugoslava in particolare mi riferisco alla Bosnia ma in parte anche alla Macedonia al Kosovo e quant'altro i conflitti sono sedati che è una cosa diversa dall'essere risolti e non mi stupirei ma spero di sbagliarmi se prima o poi in alcune di queste aree questi conflitti dovessero tornare ad emergere nel senso di diventare di nuovo palesemente violenti perché c'è la violenza anche adesso magari ma a un livello meno visibile poi altro elemento di parentela dobbiamo anche considerare che molti dei combattenti in quest'area in particolare dello Stato Islamico vengono proprio dai Balcani e qui vorrei dire una parola visto che se ne parla fin troppo sui cosiddetti combattenti stranieri che per qualche misterioso motivo noi chiamiamo foreign fighters i combattenti stranieri sono una parte rilevante e significativa di questa organizzazione stiamo parlando di migliaia e migliaia su un totale anche qui le cifre sono molto ballerine c'è chi dice 20.000 c'è chi spara 200.000 ma insomma parliamo di decine di migliaia di combattenti quindi una buona quota ci sono naturalmente i combattenti stranieri che per loro non sono affatto stranieri perché sono musulmani che vivono altrove parlo non so dei ceceni piuttosto che dei filippini o degli indonesiani o di quanti altri pakistani afghani libici ma poi ci sono anche i combattenti stranieri che vengono dal nostro mondo e qui c'è un altro aspetto che preferiamo non approfondire o che approfondiamo in maniera forse un po' rarefatta e cioè il fatto che contrariamente a quello che spesso si dice una buona parte dei cosiddetti combattenti stranieri nostrani e quando dicono strani mi riferisco però non tanto per fortuna agli italiani che sono qualche decina ma alle centinaia o le migliaia di francesi di britannici di belgi qualche americano canadesi e così via non sono affatto provenienti dalle bidonville o dalle bonlieue o dalle estreme periferie delle metropoli come qualche volta si dice ma sono molto spesso figli piuttosto bizzarri delle nostre borghesia famiglia di professionisti medici giornalisti accademici non necessariamente musulmani possono essere atei agnostici ci sono degli ebrei ci sono dei cristiani che sono attratti da questo marchio apparentemente così fascinoso ma non solo apparentemente di fatto fascinoso altrimenti non spiegheremmo l'attenzione e la capacità magnetica di attrazione anche di combattenti che lo stato islamico ha e che sono stati oggetto di una particolare pedagogia terroristica in rete sia utilizzando banali videogiochi Call of Duty Mortal Kombat Zeus quelli in cui giocano i nostri figli ahimè sia anche altri metodi perché poi ci sono dei metodi intermedi ma insomma sono stati attratti da questa organizzazione non perché è come noi vediamo questa organizzazione si tratta di un gruppo di jihadisti che combattono con metodi particolarmente efferati contro altri magari simili a loro ma perché vedono in questa organizzazione in una concezione apocalittica della storia quasi una sorta di ONG umanitaria non lo dico io lo dicono dell'indagine di terreno che sono state fatte per esempio da Dunia Boussard e da altri sociologi francesi quali hanno lavorato su appunto i flussi di combattenti stranieri verso queste regioni e vedono che molto spesso questi ragazzi parlo di ragazzi anche 17-18 anni o magari poco più di 20 partono per questi territori come altri partono insieme a Metzins Sans Frontières cioè con l'idea di fare del bene il male essendo naturalmente il solito complotto sionista giudaico capitalistico e quant'altro contro il quale si erge lo stato islamico visto non come una setta religiosa ma come appunto una sorta di movimento di liberazione dall'oppressione delle cabale che governano in realtà il mondo perché quello che vediamo non è la realtà ci sono quei 20-30 signori che si riuniscono da qualche parte tra Zurigo e Manhattan e che decidono di noi questa è un po' l'ideologia che viene o meglio la visione del mondo poi naturalmente ci sono tutti i riferimenti parareligiosi e le interpretazioni del Corano ad Usum dello stato islamico tutto quello che volete ma se noi non teniamo conto di questo noi non ci rendiamo conto dello stato di frammentazione ideologica in cui si trovano le nostre società in cui non ci sono più dei riferimenti chiari nel bene e nel male non ci sono più paradigmi non ci sono più frontiere in questo caso frontiere culturali morali ben definite e quindi c'è molta gente che anche per spirito di avventura perché anche quello conta si lancia in queste tragedie e infatti l'autrice di cui parlavo prima ha scritto un libro che si chiama traduco dal francese cercavano il paradiso hanno trovato l'inferno che rende bene l'idea perché poi noi abbiamo da questi ragazzi che arrivano lì spesso dei segnali disperati alle nostre strutture di intelligence o anche semplicemente a mamma e papà veniteci a prendere che qui è un e non è quello che noi pensavamo fosse specialmente le ragazze le ragazze che vengono adibite al letto e alla cucina perché altro non possono fare e che vengono sfruttate in un modo bestiale da queste da queste organizzazioni oddio sto andando molto al di là del limite ma ho ancora cinque minuti e allora vediamo di che cosa possiamo parlare parliamo di quella che in questo momento potrebbe apparire come la nostra prossima guerra io mi auguro di no ma non mi stupirei se fosse così si chiamava Libia si chiamava perché la Libia è esistita tra Italo Balbo e Gheddafi cioè tra il 1936 e il 2011 prima non esisteva oggi non esiste e mi sento di dire non esisterà nemmeno domani oggi in quello spazio che fino a pochi anni fa era governato con mano ferma per usare un eufemismo dal nostro amico Gheddafi amico con il quale avevamo stipulato proprio nei giorni prima del nostro intervento un meraviglioso trattato di amicizia e collaborazione è un territorio infestato da centinaia di milizie formazioni armate dalle più diverse origini e motivazioni anche se tutte solidamente ancorate ai traffici che dal profondo Sahel attraversano il Sahara sboccano verso il Mediterraneo e quindi verso di noi e qui mi riferisco anche in particolare alle migrazioni che non sono migrazioni ma sono ormai in gran parte flussi di profughi cioè di gente che fugge dalle guerre dalle guerre africane corno d'Africa Nigeria Congo ma anche dalla Siria dall'Iraq dal Levante e che trovano nei porti della Tripolitania in particolare nella zona di Sabrata e dintorni gli sbocchi privilegiati verso Lampedusa e cioè verso l'Europa le cifre ci dicono che nell'ultimo anno i flussi gestiti da organizzazioni criminali o comunque i flussi di povera gente che arriva non contiamo purtroppo quella che muore nel tragitto verso il nostro paese da questi porti è quintuplicata e probabilmente quest'anno supereremo quota 200.000 quindi è una quota che comincia a essere molto rilevante e che evidentemente ci interroga anche sulle nostre responsabilità il traffico di migranti il traffico di esseri umani gestito da queste organizzazioni criminali è un altro dei metodi che queste organizzazioni hanno per finanziarsi ancora una volta è un metodo che ci chiama in causa nel senso che la destinazione finale siamo noi attenzione quando dico noi non dico tanto l'Italia dico l'Europa del centro nord perché l'Italia per questi signori è una specie di imbuto nel quale ricevono un po' d'acqua una coperta un calcio nel sedere vengono mandati verso Berlino verso Stoccolma verso Oslo dove trovano welfare e famiglie questo lo dico perché molto spesso leggo di invasioni dell'Italia in realtà gli invasi sono gli europei scandinavi tedeschi belgi o quant'altro i quali fra l'altro ci rimprovano il fatto di avere ormai sostanzialmente rinunciato anche a censire quelli che arrivano e di gestire i cosiddetti centri di accoglienza che francamente non raccomanderei come dei centri di transito non controllato di gente di ogni tipo c'è chi sostiene nessuno lo può provare ancora in modo decisivo che fra questi profughi si celino anche dei terroristi può essere anche se diciamo l'investimento fatto dal signor al-Baghdadi o da altri difficilmente può essere razionalmente messo a rischio imbarcando questa gente in una zattara ma dovete sapere che ci sono sì le zattere ma ci sono anche delle imbarcazioni un pochino più sicure che anche dalla Tunisia raggiungono le nostre coste siciliane garantendo in qualche modo l'arrivo di chi si imbarca naturalmente a prezzi tripli rispetto a quelli che si pagano a Sabrata o a Zauia però e chiudo su questo rischiamo di finire in questa sorta di guerra civile senza confine senza frontiere perché questo governo l'Italia ha stretto dei rapporti particolarmente privilegiati con l'Egitto e con gli Emirati Arabi Uniti quelli che ci hanno comprato all'Italia per capirci e che ci hanno anche comprato la piaggio cioè i droni che sono nel teatro libico i referenti gli sponsor del governo dell'Est del governo di Tobruk della Cirenaica il quale si è intestato alla lotta al terrorismo cioè adesso ci sono in Libia ci sono centinaia di poteri ma noi abbiamo fatto finta che siano due uno è il governo di Tobruk che abbiamo riconosciuto e l'altro è il governo di Tripoli che non è riconosciuto ma che è un'entità rilevante e il governo di Tobruk ha avuto l'abilità di intestarsi la guerra al terrorismo per cui qualifica i suoi avversari della Tripolitania come dei terroristi in realtà di terroristi ce ne sono abbondantemente su tutti i lati però questa qualifica permette all'Est di godere di un certo appoggio internazionale ma in particolare di alcuni paesi arabi tra cui l'Egitto i quali intendono quantomeno controllare se non addirittura prendersi la Cirenaica l'Egitto a titolo di riparazione verso la natura che gli ha impedito l'unico Stato arabo di godere dei privilegi degli idrocarburi almeno nelle quantità di cui invece fruiscono i paesi arabi del Golfo quindi la Cirenaica con i suoi pozzi e i suoi terminali è un buon obiettivo noi abbiamo i nostri interessi parlo dell'Eni in particolare concentrati in Tripolitania ci troviamo nella situazione paradossale di avere riconosciuto un'entità quella di Tobruk che non ha particolarmente a cuore i nostri interessi ma questo non è la prima volta insomma ci troviamo spesso dalla parte sbagliata e poi lo scopriamo quando è tardi in conclusione non è una conclusione come vedete i conflitti di oggi non sono più le guerre con la G maiuscola questo naturalmente ha i suoi vantaggi la prima e la seconda guerra mondiale sono state guerre con la G maiuscola ai noi ne sapevano qualcosa i nostri nonni e bisnonni dove si moriva decine di milioni qui abbiamo composto un quadro di conflitti dove si va da alcune migliaia ad alcune centinaia di migliaia quindi scusatemi la cruda contabilità ma c'è una differenza piuttosto notevole invece l'aspetto meno piacevole è che quelle grandi esplosioni di violenza che sono state le due guerre mondiali era un'esplosione di violenza che avevano un inizio avevano una fine grosso modo questi non hanno né un inizio né una fine o quantomeno si può discutere sugli inizi è molto difficile capire quale sarà la fine e la cosa peggiore è che noi rischiamo di finirci dentro senza nemmeno sapere perché immaginando però di saperlo io vi ringrazio e sono e sono naturalmente sono naturalmente a disposizione per qualsiasi domanda critica credo che ci sia un microfono da qualche parte chi vuole prego non so forse la cosa più semplice che venga qui visto che ha chiuso la sua carrellata insomma in quelle zone mi è abbastanza incomprensibile come mai non sia non abbia rilevato perlomeno di striscio insomma la posizione conflittuale che c'è anche se non calda per il momento speriamo non lo sia mai insomma tra Israele e l'Iran e quanto Israele sta dentro a tutta questa cosa qui anche se non formalmente ma visto che lei la sa molto lunga sicuramente ci potrà dare qualche dritta interpretativa insomma vogliamo raccogliere qualche domanda e poi rispondo oppure non so se c'è qualcuno prego raccogliamone tre e poi rispondo sì intanto interessantissimo un paio di considerazioni alla fine lei ha detto ci accorgiamo in ritardo di chi stiamo combattendo a chi portiamo la guerra io penso che invece lo sappiamo il caso della Libia è evidente cioè sapevamo quello che facevamo quando attaccavamo i regimi di Gheddafi sapevamo non noi voglio dire chi ha scatenato la guerra sapeva che cosa andava a distruggere che cosa andava ad aprire quello che poi in effetti è accaduto e perché ha scatenato la guerra a Gheddafi quello che Gheddafi stava facendo la moneta panafricana il rapporto con la Cina la penetrazione commerciale economica della Cina in Africa e via discorrendo altra considerazione quindi non è un fatto che non ce ne accoggiamo lo sappiamo ma ci sono scelte strategiche geopolitiche che portano a fare una guerra o a farne un'altra seconda considerazione quello che diceva prima giustamente sul fatto che ci scandalizziamo dei tagliatori di testa tagliatori di gole ma in realtà poi in paesi nostri tra virgolette amici alleati come l'Arabia Saudita o altri ogni settimana decine di persone erano giustiziate voglio ricordare che in Iran è stata fatta una campagna mediatica enorme per liberare la giovane ragazza Sakinè accusata diciamo di aver ucciso il marito che poi in effetti è stata liberata ma nessuno dice nulla per quelle centinaia di peraltro quasi tutti i uomini che vengono uccisi molti dei quali migranti che vengono uccisi in Arabia Saudita o finito in altri paesi mi pare che anche in questo caso appunto ci sia una scelta politica precisa di parlare di uno non parlare di altro grazie ancora un'altra e poi troverei se c'è se no allora ah prego signor io sono si sente? sì io conosco molto bene Lucio Caracciolo soprattutto perché la sua rivista mi ha aiutato molto a categorizzare la geopolitica il pensiero geopolitico nei giorni scorsi è accaduto una cosa molto molto grave nel Mediterraneo che ha come protagonista l'Italia ossia la sospensione da parte del giudice e dalla costruzione del MUOS di questa antenna che fa parte di un gruppo di quattro antenne che vengono costruite a spese degli americani per avere proprio un controllo capillare di tutta questa guerra civile mondiale senza capo né code e senza fine e ieri la notizia principale sui giornali sul Corriere della Sera era che il presidente dell'ANAS Ciucci si è dimesso e c'era una vignetta di Giannelli che faceva vedere due asini sul ciglio di un burrone io ho interpretato in questo modo questa vignetta c'è la c'è stato un salto di livello nella guerra nel Mediterraneo gli americani stanno per intervenire e con le dimissioni di Ciucci è stata staccata la spina alla politica estera italiana dell'Italia completamente fuori fase grazie Luca posso farti una domanda in più? Emma dai io vorrei chiederti una una riflessione dentro questo quadro dell'accordo con l'Iran con l'Iran si volentieri stavo cercando dicevamo una mappa sull'Iran ma purtroppo non in questo ma comunque allora cominciamo Israele beh io non credo che Israele anzi sono sicuro che Israele ovviamente non è direttamente dentro però è Israele tutto sommato questo caos alle sue frontiere non dispiace non lo dico io lo dicono loro perché dal punto di vista israeliano poi uno può essere d'accordo o meno con questo punto di vista è meglio avere molto caos alle frontiere piuttosto che degli stati stabili più o meno potenti a mio avviso è una ma questa è una mia opinione personale se io fossi israeliano non condividerei questo approccio perché è sempre meglio avere un numero di telefono o comunque un bersaglio preciso eventualmente da bombardare piuttosto che avere un caos che ti si può estendere dentro il tuo paese dove come sappiamo ci sono alcuni arabi e anche diversi musulmani semplicemente come una una foresta inaridita diventa un terreno fertile per un incendio ma comunque è un fatto che Israele non considera lo stato islamico un grosso problema forse lo considera anche entro certi limiti un alleato entro certi limiti perché lo stato islamico come ho detto prima per esempio combatte contro l'Iran o se volete l'Iran combatte contro lo stato islamico ma è la stessa cosa perché ancora una volta è importante sottolinearlo stiamo parlando di conflitti intramussulmani e un conflitto intramussulmano dal punto di vista israeliano è ovviamente benvenuto fra l'altro se voi andate a vedere i documenti ufficiali israeliani lo stato islamico è diventato dal punto di vista israeliano un'organizzazione terroristica solamente il 3 settembre 2014 prima non era nell'elenco nella lista nera israeliana e questo anche è abbastanza interessante poi se andate sulla frontiera del Golan vedete che molti feriti jihadisti in particolare di Annusra che è un gruppo jihadista altrettanto efferato ma rivale dello stato islamico che combattono contro il regime di Assad vengono curati in ospedali di frontiere israeliani quindi non mi pare che dal punto di vista israele questo caos bellico la sua frontiera sia un grosso problema e tra l'altro questo implica che israele non abbia il bisogno di intervenire direttamente in questi conflitti mentre in un conflitto con degli stati arabi formalizzati come quelli contro cui ha combattuto nei decenni finali dello scorso secolo il discorso sarebbe diverso la seconda domanda sapevamo quel che facevamo in Libia non sono per niente convinto diciamo per la mia modestissima esperienza le razionalizzazioni sono sempre ex post cerchiamo di dare un senso alle guerre che combattiamo dopo che le abbiamo combattute immaginare che vi siano grandi strategie ma non parlo solo dell'Italia la stessa Francia che è il paese che porta la maggiore responsabilità o dal loro punto di vista in maggior merito nella guerra di Libia che ha portato alla fine di Gheddafi c'è entrata alcuni dicono si va bene le concessioni della totale no non è questo il punto il punto è i punti erano due o tre il primo è che essendo rimasta la Francia scottata dal caso tunisino dove aveva appoggiato fino all'ultimo il regime di Benali che abbiamo messo noi in Tunisia ricordiamolo sempre con un'operazione di intelligence negli anni 80 figuriamoci adesso si può immaginare l'Italia che impianta un regime in un paese arabo però accadeva 30 anni fa dicevo essendo rimasta scottata dalla situazione tunisina Sarkozy voleva in qualche modo cercare una rivincita immediata ed è quindi intervenuto a pie pari in quello che originariamente era un tentativo di colpo di stato di alcuni Gheddafiani contro Gheddafi in particolare per impedire la successione tra Gheddafi e il figlio un po' come anche in Egitto si voleva impedire la successione tra Mubarak e il figlio e quindi evitare la dinastia Gheddafi poi sono intervenuti anche fattori occasionali perché molto spesso il caso è importante oppure l'improvviso impegno civile di alcuni filosofi francesi e così via ma immaginare grandi strategie implicherebbe che poi tu dopo sai cosa fare della Libia post Gheddafiana non mi pare che la Francia abbia ottenuto particolari vantaggi anzi quello che adesso interessa la Francia è soprattutto il sud della Libia cioè il Fezzan perché è un'area storicamente di sua pertinenza ed è soprattutto un'area che confina con altre parti del suo ex imperio africano in particolare penso al Niger e al Chad dove sono presenti importanti interessi minerari uranio e quant'altro interverremo di nuovo con qualche bombardamento qualche operazione di forza speciale in Libia lo faremo in maniera contingente con degli obiettivi contingenti ma non con una visione strategica perché come accennavo prima non siamo più potenze coloniali ma non perché magari non so sia un relitto storico il colonialismo molto semplicemente non abbiamo più i mezzi cioè sono loro che si comprano noi sono loro che si prendono l'Alitalia o la Piaggio non siamo noi che ci compriamo loro è il Qatar che fa lo shopping in Francia dagli hotel ai grandi marchi alle squadre di calcio alla e questo è l'aspetto più grave credo anche all'intellettualità perché questi signori arrivano nelle nostre università ti danno delle grandi borse di studio centinaia di migliaia milioni di euro in modo che tu quello che dovremmo fare noi da loro insomma lo fanno loro da noi in modo che tu non possa avere diciamo una tua visione più o meno obiettiva di questi paesi perché ci sono i propagandisti al soldo di questi signori la questione del MUOS stiamo parlando di una base americana in costruzione in piena Sicilia di centrale importanza per l'intelligence americana sì certamente è un fatto importante ma noi non dobbiamo dimenticare che una delle radici di questi conflitti nordafricani e levantini è che gli americani si sono tendenzialmente distaccati oppure intervengono quando finisce la benzina per impedire che gli alleati francesi e britannici che hanno finito come è successo nel 2011 le munizioni perdano la guerra e questo sarebbe un po' grave anche dal punto di vista americano ma gli americani non sono più in prima linea e una delle cose più intelligenti che Obama ha detto nel suo mandato diciamo ha più detto che fatto è quella appunto di dire don't do stupid things non facciamo stupidaggini peraltro continuando a farne parecchie ma l'intelligenza americana di capire che tu non puoi sovraesporti in questi territori che hanno un'importanza relativa per l'America il che significa come conseguenza che questi territori che invece hanno un'importanza essenziale per noi sono affidati alla gestione europea ed essendo la gestione europea è una gestione di opposti pur formalmente parti della stessa comunità perché i nostri interessi sono opposti a quelli francesi quelli inglesi sono diversi quelli tedeschi sono un po' diciamo lontani e significa aumentare il caos infine l'Iran aspettiamo e vediamo entro giugno sapremo che cosa sarà di questo draft che è stato disegnato in modo da essere interpretabile come sempre in mille modi non è confortante il fatto che un'ora dopo che era stato fatto l'accordo già il Dipartimento di Stato twittava la sua versione dell'accordo che era perfettamente contraria rispetto alla interpretazione iraniana di qui una serie come avete visto di dichiarazioni contro dichiarazioni e di polemiche che ma l'aspetto più preoccupante dal mio punto di vista cioè da chi pensa che questo accordo potrebbe effettivamente essere utile alla pacificazione della regione è che coloro che lo hanno negoziato non avevano il potere di farlo parlo di Obama e parlo di Rouhani e Zarif Obama non ha il potere di farlo perché in ultima analisi la parola decisiva sulle sanzioni le dice il congresso e il congresso non è esattamente amico di Obama e naturalmente viceversa primo secondo poi fra due anni ci sarà un altro presidente che probabilmente la penserà in maniera diversa forse almeno da Obama e dall'altra parte c'era un governo Rouhani e il suo negoziatore Zarif che certamente aveva avuto un mandato ma questo mandato implicava la revoca delle sanzioni e se tutti i presenti poi dalla guida suprema o comunque dal popolo iraniano dicendo va bene abbiamo fatto l'accordo però le sanzioni restano o resta il grosso delle sanzioni è difficile che questo possa provocare una felicità sconfinata in quella popolazione e questo ci ricorda come in realtà la partita non sia tanto quella del nucleare quanto quella della reintegrazione o meno dell'Iran nella regione come una potenza decisiva e quindi anche sotto il profilo energetico come una grande potenza energetica qual è almeno da un punto di vista geologico operazione che è contrastata sì certo da Israele ma più ancora che da Israele dagli arabi dai sauditi che vedono e naturalmente dallo stato islamico che vedono nel persiano sciita il perfetto nemico molto più di quanto non lo siamo noi se voi vedete le dichiarazioni che fanno i jihadisti i loro nemici loro lo dicono non siamo noi sì noi veniamo in un certo punto della lista ma prima dei crociati ci sono gli sciiti che sono quanto di peggio può esistere cioè sono cugini di religione che hanno dirazzato quindi apostati quindi lascio stare gli epiteti che vengono usati nei loro confronti naturalmente viceversa in secondo luogo i sauditi in quanto rappresentanti di una versione sunnita dell'islam che però si è corrotta e asservita all'occidente e poi solo in terza battuta noi noi entriamo in realtà in questo conflitto in questi conflitti in quanto in maniera spesso a mio avviso irrazionale non meditata soprattutto intorno alle conseguenze di medio periodo ci finiamo dentro magari per rispondere anche a una pressione mediatica un'emozione all'opinione pubblica che vuole che si faccia qualcosa e poi scopriamo che una volta che hai scavato la buca e non sei in grado di riempirla c'è qualcun altro che la riempie e questo qualcuno non ti vuole bene se c'è ancora una o due domande sono qui altrimenti alla prossima prego c'è lei se Giovanna mi permette vengo volentieri a parlare un'altra volta di Ucraina però una parola la dico subito quella questione è molto più importante di quelle di cui abbiamo parlato fino adesso nel senso che implica il rapporto fra noi e la Russia e in generale i rapporti fra le grandi potenze mondiali infatti quando si parla dell'Ucraina vediamo che i signori Hollande Merkel eccetera Obama si mobilitano trattano mentre francamente della Siria dell'Iraq e della Libia gliene frega abbastanza poco quello che mi sorprende è come poco questo fatto si è percepito qui cioè noi ci facciamo stregare dal califo e dimentichiamo che c'è un conflitto ravvicinato geograficamente quanto e forse anche più di quello che investe potenze atomiche che investe l'Europa che investe la Russia che investe i nostri interessi fondamentali di carattere energetico commerciale ma anche di sicurezza e se noi forse prestassimo un pochino più di attenzione a queste questioni e non la subappaltassimo ad alcuni amici europei che hanno interessi diversi dai nostri mi riferisco ai baltici sarebbe meglio per tutti anche per i baltici grazie alla prossima